Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 tutte le mattine alle 7 e mezzo in diretta abbiamo la rassegna stampa Occhio ai giornali che comincia tra poco dopo il santo del giorno e le previsioni del tempo Allora il santo di oggi, oggi è la beata Vergine Maria di Lourdes, Lourdes luogo ormai famosissimo in tutto il mondo Chi non è stato a Lourdes? La chiesa ricorda oggi la prima delle 18 apparizioni della Vergine a Bernadette Subirò Più che alla veggente l'attenzione però è rivolta a Maria, la madre di Gesù che invita a guardare suo figlio Andiamo, il sole è sorto alle 7 e un quarto, tramonterà alle 5 e mezzo Allora andiamo a vedere adesso un attimo il nostro sito internet In primo piano vedete cani e gatti rinchiusi in soffitta tra feccio e spazzatura E' una notizia in evidenza ma noi andiamo sotto per vedere un attimo la nostra stazione meteo I dati di questa mattina, allora la temperatura è di 6 gradi e mezzo Non c'è vento mentre il cielo si presenta così oggi con questo occhio possiamo dire Vedete sembra quasi un occhio che si apre sulla città Oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con alternanza di schiarite ed annuvolamenti più consistenti In particolare nelle ore centrali della giornata Avremo anche deboli sparse precipitazioni più probabili nelle zone interne nelle ore centrali della giornata Il limite delle nevicate è sopra i mille metri Le temperature sono in diminuzione per domani Venerdì 12 vedete il tempo peggiora Avremo dal pomeriggio deboli precipitazioni sparse nelle zone interne e nevicate attorno ai mille metri Le temperature sono in lieve diminuzione Per la giornata di sabato 13 avremo ancora deboli residue precipitazioni nelle prime ore della giornata Poi nelle zone interne soprattutto quelle esposte ad ovest Il limite delle nevicate inizialmente attorno ai mille metri In rapida risalita nel corso della giornata per effetto dell'aumento delle temperature L'inizio invece della prossima settimana secondo la protezione civile delle marche Sarà caratterizzata da tempo instabile Per il probabile ingresso di una saccatura di aria polare marittima fredda nel bacino del Mediterraneo E la sua evoluzione in una circolazione ciclonica chiusa che appunto porterà questo maltempo Allora adesso andiamo a leggere i giornali Sul resto del Carlino due pagine questa mattina dedicate ad una notizia che ieri il giornale bolognese ha dedicato Ad un fatto che in prima battuta ha fatto sicuramente sorridere qualcuno addirittura si sarà anche un po' arrabbiato Soprattutto chi è vittima di autovelox Perché? Perché? Eccola qua Abbiamo due pagine simili Vabbè Prendiamo una Il caso dei vigili Siamo ad Urbania Le pagine sono due ma ve ne mostriamo soltanto una Qual è la vicenda? Allora Da Fermignano a Borgopace ci sono cinque autovelox fissi e uno volante Ma le macchinette disponibili sono soltanto due Per cui i box vengono attivati alternativamente Le multe fanno incassare ogni anno 100.000 euro Che cosa è successo? Che in questi autovelox, in uno di questi cinque autovelox E' stato pizzicato anche il vice comandante dei vigili Carlo Brizio E il capitano Daniele Intiar Sono stati multati fuori dal servizio per eccesso di velocità Proprio dai loro autovelox La reazione qual è stata? La reazione è stata questa Per non pagare la multa È stata Hanno fatto ricorso alla prefettura Scrivendo che l'autovelox Il loro autovelox Violava la legge Perché non era presidiato dagli agenti Ottenendo l'annullamento Cioè, avete capito? E quindi Che cosa è successo? Quando il resto del Carlino Ieri ha pubblicato questa notizia Cioè che il vice comandante Aveva fatto ricorso alla prefettura E aveva vinto Quindi si era fatto Tutti gli altri chiaramente si sono arrabbiati Ho preso il comandante E non solo il comandante Tant'è che l'altra pagina Che troverete sul giornale Acquistandolo oggi in edicola Parla appunto Che è stato immediatamente rimosso E c'è adesso invece la rabbia Anche di chi ha pagato quelle multe Noi tartassati Gli altri fanno i furbi Parlano gli autisti Pizzicati dall'autovelox Che non hanno fatto ricorso E Qui intanto vedete Al vertice Il sindaco di Borgo Pace Che è anche presidente dell'Unione Montana Dell'Alta Val Metauro Cioè Romina Pierantoni E pensare Dice per esempio Eleonora di Urbania E pensare che ho conciliato subito Per risparmiare 500 euro Sul totale L'Unione Montana Ipotizza anche danni d'immagine Gli decurteremo anche lo stipendio Si dicono stupiti e amareggiati Si definiscono gli otto sindaci Che hanno firmato la nota appunto Dopo aver appreso Questo scandalo Diciamo così Allora la pagina di Fano Invece guardate in che situazione Sono stati trovati Dove vivevano questi 19 gatti Scoperti dalle guardie ecozofile In un appartamento di Fano Vivevano in una soffitta E Cecilia Tornimbeni Che è responsabile del gattile Melampo di Fano Dice Quando sono entrata L'odore era atroce Fin dalle scale Aria satura di urina Da bruciare gli occhi Gli stipiti non si aprivano Erano impregnati Guardate la fotografia Che dice tutto Insomma C'erano anche due cani La donna Che aveva questi gatti E' stata denunciata Per maltrattamenti Le guardie ecozofile Parlano di Accumulatrice seriale Di animali Cioè quelli che non buttano via Davvero niente Anche questa è una malattia Le televisioni Specialmente Real Time Discovery Ci hanno fatto Fiorfior di programmi Su questa malattia Appunto di chi Non butta via nulla Poi è successo anche a Fano Qualche Qualche Probabilmente lo ricorderete In un quartiere di Fano Dove una signora E' stata poi ricoverata Viveva in una casa Dove non c'era più spazio Nemmeno per camminare Mille camper Parliamo di carnevale Mille camper Si fa il bilancio Chiaramente Pochi spazi 3.000 turisti Itineranti Conquistati dalla Carmes Quindi dal carnevale Ma il camping club Protesta Perché appunto Dice il presidente Di Ottalevi Bisogna riorganizzare Il settore A beneficio Di tutti Poi la giornata Del ricordo Ieri Le foibe Ci insegnino A riaffermare I valori Della convivenza La testimonianza Dello scrittore Profugo Fiumano Daniele Zandel Durante il consiglio comunale L'assessore Alla memoria Invece Mascarindice Per troppo tempo Questa pagina di storia E' stata confinata Nell'oblio Belle parole Davvero Allora Adesso invece Andiamo a parlare Di Sanremo Perché Giuseppe Ottaviani Di Sant'Ippolito Dopo il festival Di Sanremo E' andato anche Alla vita in diretta L'altro programma Del pomeridiano Della RAI Adesso mi chiedono Dice gli autografi L'abbiamo visto Chi lo segue Anche un po' Su Facebook Avrà visto Insomma qualche scatto Qua e là Di Ottaviani In giro Per la città Dei Fiori E appunto Firma L'autografo Insomma la gente Lo ha riconosciuto Ieri il festival E' stato seguito Ieri l'altro E' stato seguito Da 11 milioni di persone Il 49,1% Di share Numeri che non si fanno più Si fanno solo In certe occasioni Ecco Forse Sanremo E' la finale dei mondiali Ecco il mio motto Ho detto che la vita E' bella E' una sorpresa continua E va presa Con allegria Non solo Va anche detto Che al primo posto Qui non lo mettono Perché Non so perché Ma comunque Al primo posto Ha messo Amare la moglie E visto che Di messaggi subliminali Anche ieri sera Ne sono stati dati tanti Una violenza schifosissima Davvero Una cosa da far vomitare Questa cosa Che la RAI La TV di Stato Continui a propinarci Questi messaggi subliminali Con personaggi Più o meno VIP Che con oggetti Vari Paroline Messe qua e là Domande Fatte ad hoc Che anche ieri La recitina Da dopo Cioè Veramente delle cose assurde Però Io invece ricordo Che Il nostro Ottaviani Per campare cent'anni Ha detto La prima cosa Bisogna voler bene Alla moglie E questa è una bella cosa E va rimarcata Però Sai E' un po' Retro Allora Andiamo avanti Folla in chiesa Invece Qui purtroppo Ci ha lasciati Una Donna di 52 anni Sandra Maggioli In questa bella fotografia Titolare del centro estetico Calos Aveva scoperto di essere malata Nel 2014 Ieri mattina C'è stato il suo funerale Nella chiesa di San Cristoforo Una chiesa gremita Per l'ultimo saluto La donna Che Questa Sandra Che voleva salvare Tutte le donne Dopo la scoperta del tumore Diventò paladina Della prevenzione Maggioli Raccontò la sua storia Il Carlino Non fate come me Abbiate Attenzione Per voi stesse Poi Il Carlino Questa mattina Sulla pagina di Fano Racconta Di un fuggifuggi Al mercato Il vento Questa folata di vento Che ha scoperchiato Le bancarelle Ieri Intorno alle 8.45 C'erano poche bancarelle A dire il vero Perché ieri Già la giornata Non era un granché Però questo vento Ha fatto volare via Banchi Ombrelloni E anche la merce Esposta Per fortuna Non ci sono stati Comunque feriti Andiamo avanti Leggiamo la pagina Del Corriere Adriatico Questa pagina di Fano È dedicata Tutta al carnevale C'è anche L'analisi Con le potenzialità E i limiti Di questo carnevale Che sì Va bene È bello Ha avuto un grande Successo di pubblico Ma chiaramente Ce lo dobbiamo dire Che c'è stato Un grande successo Di pubblico Però Andando ad analizzare Bene un po' Tutte le cose In pochi Per esempio Pernottano Negli alberghi L'attualità Con la satira politica È praticamente ignorata A differenza Per esempio Di quanto accade Al festival Scusate Da quanto accade Al carnevale Di Viareggio Insomma Ci sono delle cose Da sistemare L'organizzazione Moltiplica le occasioni Di spettacolo Però mancano La satira E il salto Di qualità decisivo Esatto Manca proprio Quel salto Quel salto Che fa fare Fa sì che il carnevale Di Fano Sia davvero Il carnevale Anche se poi Chiaramente Guardando in giro Anche nei siti Eccetera Viene sempre Quando si fanno Soprattutto Quegli elenchi No Di inizio Carnevale Dove si fa l'elenco Di chi sono Quali sono i carnevali Più importanti D'Italia Fano chiaramente C'è sempre Ecco però Manca ancora quel salto Sono arrivati Mille camper Anche qui La sosta Le aree di sosta Però Non bastano E poi sopra Il sindaco Che parla di un'edizione Di grande passione Seri ringrazia Cecchini Il presidente Del carnevalisca Ed elogia L'entusiasmo Dei fanesi Un progetto Partecipato Dimissioni Del Santa Croce L'assessore Paolini Non esclude Alcun Riuso Secondo La prima ipotesi La valorizzazione Urbanistica Doveva servire A finanziare L'ospedale Unico Ecco Gli aumenti Funzionali Sono cibi curativi Gli alimenti Funzionali Sono cibi curativi E un incontro Gli esperti A confronto Su pane All'orzo E olio biologico Ospiti Mario Pierleoni E Sara Tomassini Produttori Della zona Protagonisti Di ricerche Firmate Dalla Politecnica Ancora Dalla Corriere Andiamo a Senigallia Slittano i lavori Viabilità Nel caos Il traffico In viale 4 novembre Sotto Una bambina Si sente male Le trovano La pertosse Un caso raro E anomalo E' stata ricoverata Al Salesi La mamma lancia Un appello A favore Delle vaccinazioni Da Pesaro Invece Non dimenticare La tragedia Delle foibe Ricci ricorda Il coraggio Di padre Damiani Andiamo per chiudere La resegna Sul messaggero Il piano spiaggia Non si cambia Ma l'umore Tra i bagnini Ieri durante la commissione Aperta Protestano le opposizioni L'assessore De Regis Dice Per le osservazioni C'è tempo Fino al 2 di aprile Ma la giunta Va avanti Poi l'atleta centenario Incanta Sanremo E si mette a cantare Ottaviani di Sant'Ippolito Duetta Con Carlo Conti Poi si esibisce In vecchio scarpone Inverno pazzo Sembra autunno C'è anche qui Come sempre Tutte le mattine Sul messaggero A fondo pagina Ci sono le previsioni Del meteorologo Fazzini Poi si parla di banca Marche Indagine a tappe forzate Anche sui danni All'economia E poi sulle razzie Nella notte In due tabaccherie E in un'azienda Siamo a Pesaro Nei bar Hanno portato via Sigarette Grattini E contanti Il bottino sfiora I 25 mila euro Rubate anche Una cassaforte Sulla secessione E scontro Sul referendum La comunità montana Del Monte Feltro Ne vorrebbe un altro Dopo quello In cui nove anni fa Vinsero i sì Per quelli che Volero andare In Romagna I sindaci di Monte Copiolo E Sasso Feltrio Però sono contrari La gente Non ha cambiato idea Ci stanno prendendo in giro Per Minardi e Giacinti E Giacinti È necessario capire Se l'orientamento Delle popolazioni È rimasto lo stesso L'ultima pagina È quella di Fano Serie carnevale Dei record E delle conferme Tanto entusiasmo Per l'edizione Che si è appena conclusa Poi sulle idee Che il Comune Ha chiesto Ai cittadini Nell'area Da sviluppare Nell'area Dell'ex Zucrificio A Fano Beh le associazioni Di categorie Rilanciano Su un nuovo Palasport Da duemila posti A loro giudizio Si otterrebbero Spazi adeguati Per convegni E manifestazioni Creando flussi Turistico Anche Fuori Stagione E in effetti Mancherebbe Senz'altro Un palazzetto Sporto Comunque un luogo Dove poter ospitare Eventi Che siano Insomma Medio grandi Adesso non grandissimi Ma insomma Comunque Medio grandi Anche perché poi Grandissimi C'è spazio Qui nella vicina Pesaro La rassegna stampa È finita Io vi ringrazio Per averci seguito Vi ricordo Che questa sera C'è il telegiornale Alle 20.30 Occhio alla notizia A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie a tutti